E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video, sono Capital Leggendari e oggi siamo in questo nuovissimo video di Brawl Stars ragazzi Oggi siamo in un video con un mio amico e spero che vi piacciono i miei video di Brawl Stars e anche della mia vanilla Ho già fatto uno con la voce modificata e solo che adesso la devo continuare quindi ragazzi lasciate un bel like E iscrivetevi al canale Alla, ok Ascetto, ciao a tutti Ok ragazzi Vai Ho messo Maxine, vabbè volevo mettere un altro Brawler, comunque va bene Questa, che qua c'è una Piper, che la dobbiamo fare Non ci sta neanche colpendo, forse si, forse ci sta colpendo, dobbiamo stare vicini a lei perché è al contrario Ok va bene quanto la dobbiamo fare ? Noooo Eeeh ce ne siamo così per fare Vabbè ragazzi va bene Meno due coppie ce le possiamo rifare Aspetta ai che cammino di Brawler Mettiamo bene il numero Ok, va bene Aspettiamo che metti pronto Non sto mettendo pronto Vabbè sì Ho detto pronto Pronto Comunque nello scorso video Con la voce modificata C'erano problemi con la sincronizzazione Dell'audio Quindi spero che L'avete apprezzato lo stesso Anche se c'erano Dai andiamo contro questa pipe No 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 Che facciamo che facciamo Eh ci siamo sbagliati Ci siamo sbagliati Guardiamo se ce la fa Ah Eh Scappa Scappa Ok Vai vai No 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 Meglio che scappiamo Che noi abbiamo Che noi abbiamo zero power up E E Il mio amico Ha Cinco Quindi credo che Sia una mozza Eh una Oggi l'italiano Proprio Una mossa Azzardata Non si può fare team Frank Non si può fare team No No E vabbè Vabbè lag Non ci fate caso Vai fra tre secondi Espono No 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 Oh meno male Meno male Ci siamo salvati Per un pelo Vai No dobbiamo No 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 Dobbiamo scappare Dobbiamo scappare Ci siamo salvati Abbiamo fatto Una mossa da pro Ci siamo salvati Meno male Ok Paschiamoci dentro Questo cespuglio E Andiamo A Usciare Vai No 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 perché Sono andati contro No 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 Vai ragazzi Andiamo così No 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 Stanno così per fare Vabbè Comunque bella partita Bella partita GG E Lo giochiamo ancora No Ok va bene E Ce la stiamo quasi per fare Io mi tengo mortis Aspettiamo che metta pronto Mentre vi dico Che Lasciate un bel like E sietevi al canale Per non perdervi altri video E trovate L'emoji nascosta Nel video Così vi lascerò un codicino Sotto nei commenti E' meglio che non andiamo al centro Perché Tutti quelli che vanno al centro Poi Andiamo Qua No c'è un corvo Ok Vabbè Vabbè Eh Dovamo cambiare mortis Ok Non è un buon brawler Vai Ok ok Respondiamo L'ultima Ah no E' vero che non l'ho mandata Vabbè Ehm Avvo registrato poi Non so come Adesso Non so come farlo mandare Perché mi si è Un po' bloccato E quindi adesso Non lo riesco più a mandare Comunque Nell'ultimo video che avevo fatto Per sbaglio Avevo messo in pausa il video E quindi Ehm Così Mi avevo messo in pausa Non so come spiegarmi Avevo Messo in pausa il video Quindi avevo pensato Che l'avevo Arrestato Cioè L'avevo chiuso Eh no Ma questa qua La vinciamo Ok Vai Vai Lo so che è una mossa Troppo Ma si Credo che l'avevo Come non detto Hanno fatto qualche cambiamento A A Ai brawler Non a tutti Ma Ad alcuni Tipo A corvo L'hanno cambiato Come vedete E' più Non so Dettagliato Poi Non so Che altro Che hanno cambiato Comunque sono tutti Più dettagliati Rispetto a prima Mettiamo Iris Visto che è l'ultima Che ho trovato Vai Ok no Mettiamo Beryl Visto che Beryl io ho anche Il gadget Ecco Quindi mettiamo Mettiamo lui Siamo a 7 minuti di video Bene Possiamo ancora Continuare Lui ha l'abilità Eh Ha l'abilità stellare Ok No ma Beryl è devastante No Mi sta laggando Comunque Beryl è devastante Come brawler Stava trotterellando Come se avesse già vinto La partita Ma in realtà No Eh vi vantavate Non è vero Non si vantavano Scusate ragazzi Se non parlo Come negli altri video Però È che Mi sto concentrando Più sulle partite Però comunque Me ne approfitto No 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 Scappiamo da loro Stavo dicendo Approfittiamone Di dire Di lasciare un bel like E trovarli Immagina scosta Che l'ho già detto Ecco Di attivare la campanellina E condividere il video Ecco Questo qua non l'ho ancora detto Comunque 17 power up E 13.040 Di vita Non dico che siamo Mettiamo Mettiamo Non so Iris Dai Sì sì Bella partita Bella partita Come si fa Ok E non è che uso tanto La chat In queste ultime Molte che gioco A bros stars Ok Ha messo Dynamite Non mi ero neanche accorto Uno Eh Questa scegli Ha l'abilità stellare Quindi Molto forte Perché sarà A un livello Più alto di noi Uh Vai 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 No 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 Ok Eh Dai No ragazzi No 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 Non la devono Sì 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 Vai Vai ragazzi No ci siamo Costrati Abbiamo la telecamera Come dico io Prendrone No Eh cos'è qua ragazzi Mettemelo qua sotto Nei commenti Perché neanche io lo so Vai Dai Vai Ok Eh no Dove Cosa facciamo No No c'è il corvo C'è il corvo Ci fa male Ci fa male Scappare Meno male Meno male Meno male che non ci ho visti Quella Iris Non ci ha avuto Meno male che non ci ha avuto Non ci ha avuto Il video della Vanilla ricordo correndo come un matto si vai nooo vabbè vabbè secondo posto come le altre volte come prima ma come le altre volte e vai facciamo un'altra facciamo adesso cara vai si gg bella quarteta bella quarteta dopo questa credo che chiude vai ok andiamo contro b farò molti tagli in questa eh no non credo di no sto dicendo che farò molti tagli in questo video però no vai ok questo succo il succo viola da slurpo nooo nooo vabbè ma almeno non è rosa di più ma facciamo un'altra facciamo un'altra dai lui è tutti i gadget del mondo guardate il profilo guardate guardate quasi tutti livello 10 ragazzi quasi tutti no noi abbiamo più brawler dai noi abbiamo più brawler dai eh vai non c'è troppo ok abbiamo un brawler aspettiamone e cambiare il brawler non c'è chi vai stanno prendendo un sacco di power up qua qua al centro vai ok bene vai così spero che questo power up non è una trappola ok no ne avvicino appoggio no eh no perchè siamo andati abbiamo sbagliato vabbè vabbè ragazzi ok ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto se ci fosse lasciate un bel like iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi altri video ed è io il mio amico che dice ciao a tutti raga è tutto e ci vediamo domani forse in un prossimo video ciao